Il temuto picco è arrivato e giunge in contemporanea sia per quanto concerne il covid sia per quanto riguarda l'influenza stagionale. I numeri crescono, le richieste, le chiamate ai medici di medicina generale di conseguenza aumentano. Per quanto concerne il covid i numeri sono ben più alti rispetto a quelli dei bollettini ufficiali perché molti fanno il tampone a casa e non vengono quindi registrati. L'unica buona notizia riguardo all'aggressività del virus che nei soggetti non fragili sembrerebbe creare meno problemi del passato. Le persone fragili chiaramente bisogna stare attenti ma abbiamo anche in quel caso le armi per poterci difendere innanzitutto il vaccino e poi i medici di medicina generale sanno quanto utilizzare gli antivirali che sono farmaci che abbiamo a disposizione e che possiamo utilizzare proprio per le persone fragili. Anche l'influenza stagionale sta raggiungendo il picco in anticipo rispetto al solito e un po' a sorpresa in considerazione delle temperature finora decisamente miti. Anche in questo caso occorre seguire i consigli del medico. L'antibiotico è completamente inutile consultate il vostro medico soltanto quando il vostro medico riterrà opportuno per particolari infezioni da sovrapposizioni batteriche utilizzare l'antibiotico lo usa se no basta restare al caldo utilizzare la tachipirina e in genere in pochi giorni se ne esce fuori. In questi giorni quindi i medici di base si trovano a far fronte di conseguenza ad una situazione decisamente complessa. In genere si parla sempre di pronto soccorsi affogati pronto soccorsi al collasso in questo momento al collasso ci siamo ci siamo noi ma voglio dire siamo abituati nel periodo infernale a lavorare in silenzio con correttezza con tranquillità il problema dei medici medicina generale della carenza dei medici medicina generale fortunatamente ancora in Calabria non l'abbiamo probabilmente l'avremo tra qualche anno in altre regioni d'italia sono situazioni veramente difficili.